In un'intervista alla mia amica Paola Biondi ho letto che oggi un terzo delle psicoterapie, delle terapie in generale, in Europa viene fatto online. Questo secondo me è qualcosa di molto interessante che può dare luce a un bel po' di riflessioni su cui dovremmo muoverci noi psicologi. In un bell'articolo, Spinsanti, spiega come in medicina, dal modello ipocratico in cui il medico in un certo senso imponeva la propria terapia sul paziente, si è arrivati a un modello di co-costruzione della terapia. Oggi il cliente vuole essere partecipe in modo attivo all'interno del processo terapeutico, vuole dire la propria esperienza, vuole dire le proprie opinioni, vuole essere una leva strategica che sceglie la direzione da dare alla terapia stessa. Il mondo cambia di continuo, i clienti si adattano e ovviamente il mercato si adatta a tutto questo. Come mercato intendo in questo caso l'erogazione anche dei servizi sanitari, perché ne facciamo parte, è quello che facciamo noi, il nostro lavoro, no? Questo significa che come terapeuti ci dobbiamo adattare, dobbiamo adattare il nostro setting, adattare il modo in cui stiamo rispondendo ai bisogni delle persone, perché altrimenti quello che succederà sarà semplicemente che le persone troveranno altri modi di stare bene, di raggiungere il proprio benessere, che non saranno quelli che gli stiamo offrendo noi in questo momento. In questo senso, se non hai mai pensato di fare della terapia online, questo è il momento giusto. Ormai le ricerche che hanno mostrato che la terapia online è efficace sono un'infinità, e a mio parere le terapie brevi si sposano benissimo con questo discorso. Tre cose che puoi fare se sei uno psicologo e vuoi cominciare a fare terapia online. Ti dico le mie, basate sulla mia esperienza, mi fa piacere se tu vuoi dire le tue nei commenti, fare domande, critiche, opinioni o aggiunte che possono essere utili a tutti. Numero uno, inizia a vedere come funzionano. Le terapie online non sono come la terapia vis-à-vis, soprattutto se parliamo di chat therapy, di email therapy, ma anche la terapia online faccia a faccia tramite Skype. Non è la stessa cosa, non funzionano nello stesso identico modo. Quindi informati, ci sono diversi articoli, libri, linee guida sull'argomento, l'importante è che vai a vedertele prima di cominciare a farle. Numero due, se non ti senti sicuro, inizia con una cosa con cui senti più affinita. Per esempio, inizia con delle terapie via Skype, anziché iniziare con la chat therapy che ha delle logiche sue particolari da seguire. Inizia via Skype, che è molto simile al vis-à-vis, e sicuramente ti dà l'idea di poter fare qualcosa di più in linea con quello che già si stai facendo a studio tutti i giorni con i tuoi pazienti. Numero tre, comincia con le cose più facili per te in termini di lavoro. Cioè, intendo dire, inizia magari a proporre la terapia online soltanto per quelle tipologie di problemi verso cui tu ti senti più sicuro. Per esempio, se lavori molto bene con le terapie di coppia, allora inizia a proporre solo le terapie di coppia online. Oppure, se lavori molto bene con, non so, il blocco degli studenti nello studio, le performance del public speaking delle persone, di manager o persone che si occupano di public speaking, inizia con quelle online, perché comunque starai in un territorio che per te è già noto, su cui ti sai già avviare bene e che online ti sarà più facile trattare. Come già detto in questi e in altri video, le persone saranno sempre più una leva strategica per capire come riuscire a raggiungerle e dargli i nostri servizi. Perlomeno dovremo ascoltare i loro bisogni e vedere come possiamo rispondere a quello che ci stanno chiedendo. Quindi, in definitiva, di fronte a situazioni come queste, a cambiamenti come queste, puoi decidere soltanto due cose. O ne vieni travolto, o li cavalchi.